Sì, sicuramente un avviso di garanzia non è ancora un atto concluso, la condanna lo è, per cui a livello locale assolutamente spero che non ci siano anche in queste elezioni dei candidati in tal senso che abbiano subito condanne, il problema è più grande a livello nazionale, spero che nessuno faccia queste proposte e che ci sia il popolo che faccia capire che è una cosa altamente ingiusta e impopolare. Secondo me bisogna fare due cose fondamentali, ci vuole l'anagrafe degli eletti, ci vuole una dichiarazione esplicita di eventuali conflitti di interesse e ci vuole sicuramente quello che la legge già prevede, in base alla 241, la trasparenza di tutti gli atti amministrativi che possono essere letti, visti, fotocopiati e qualunque cosa. Allora, bisogna separare intanto il problema delle persone e sto parlando di tutte le persone che hanno situazioni di precarietà nel mondo del lavoro e lì, secondo me, la tutela neanche si deve dire che va difesa. Circa invece la trasparenza, l'ASP o le persone che hanno rappresentato l'ASP ci devono dire che cosa è successo, in che modo si è arrivata a una situazione eventualmente debitoria, bisogna fare una ricostruzione dettagliata, bisogna riconoscere le responsabilità e l'unica cosa che non va fatta assolutamente è pensare di sanare una qualunque forma di debito con vendita o altro dei beni comuni, quello assolutamente no. Allora, sull'Igdo c'è un movimento popolare che è ammirevole, però c'è anche un forte disoliettamento perché è un po' come la squadra di calcio, tutti hanno un'idea diversa l'una dall'altra. Allora, secondo me c'è un problema di metodo che va introdotto a Ciampino perché è stato solo annunciato ma non portato a termine, che è quello della partecipazione progettuale della cittadinanza, in modo tale che non prevalga un'idea ma prevalga una mediazione tra le idee, che sia un bene pubblico, che abbia una storicità e che sia la memoria di Ciampino, credo che convergiamo tutti. Allora, il problema serio sull'aeroporto è che non ci sono dei monitoraggi costanti circa il tasso di inquinamento che l'aeroporto comporta. Ci sono state due ricerche pagate per cui dati ufficiali della Regione che parlano di un gravissimo problema acustico che va sicuramente preso in considerazione. La cosa da fare è sicuramente non spostare l'aeroporto da Ciampino a Fiumicino perché questo si chiama scaricare ad altri i nostri problemi. Spostare i passeggeri sì, capire che i voli da 150 devono arrivare a 60, questo va fatto e soprattutto, ripeto, monitorare costantemente che cosa succede dell'inquinamento acustico e ambientale. Ciampino da sola non riesce a fare niente. Ciampino è un pezzo di territorio fra due colozzi, i Castelli e Roma. Il comune di Ciampino da solo non risolve i problemi che sono sopra comunali. Ci vuole un tavolo di trattative con tutti gli enti preposti. Io non ripeto quello che è diventato un ritornello di tutti. È una zona paludosa, sì, è una zona limitrofa, è una zona tra le più inquinate di Ciampino. È tutto vero. Il problema è che quello è l'ultimo lembo del comune di Roma. Di conseguenza l'allora sindaco decise che quella era il dimenticatoio per i nomadi. Il vero problema dei nomadi è ancora qui. Io e la mia lista non voglio risolvere il problema dei nomadi. Noi vogliamo risolvere il problema con i nomadi. I nomadi hanno dei rappresentanti degnissimi. Sicuramente si deve partire da due situazioni. Questo stato non può durare, bisogna cambiare le cose. Un numero così crescente di persone non può esserci. L'incendio che abbiamo visto ultimamente non si può ripetere. Secondo me il nodo centrale di tutto questo è parlare dell'attività lavorativa che queste persone fanno. Sorvolo poi il problema di persone regolari. Noi abbiamo già una situazione di piano regolatore che è stabilita. Diciamo che non si devono fare altri varianti perché Ciampino è, dopo Firenze, la città del centro più densamente abitata. Una cosa che va sicuramente fatta è dare la prevalenza al recupero delle strutture già esistenti e degli edifici già esistenti, al miglioramento, al potenziamento delle cose che abbiamo. E poi il mio desiderio e della mia lista è quello che l'ultimo lembo di zona verde che si chiama Valle Marciana, dove si produce il vino d'oc, rimanga zona verde. Allora, anche in questo caso, perché la nostra lista, quello che chiede e propone è quello di un differente modo, metodo di lavoro. Anche in questo caso i giovani devono poter incontrarsi, devono poter proporre le loro idee. C'è una bellissima esperienza fatta da Bollenti Spiriti in Puglia, dove i ragazzi si sono incontrati, hanno fatto delle proposte di progetto, dopodiché sono stati trovati finanziamenti che adesso si stanno realizzando. Allora, che nulla cada dall'alto, che i ragazzi vanno accompagnati è ovvio, ma che bisogna esercitare la fase dell'ascolto è necessario. Luoghi di aggregazione ci vogliono, ma luoghi qualificati, allora penso, non so, una libreria caffè che va benissimo, oppure penso al rilancio, per esempio, di tutte le attività creative che hanno senso. Io ricordo con nostalgia i festival che si facevano una volta, sia del cinema che della musica. Riproporre cose che accrescono formazione, cultura, motivazione e aggregazione. Dunque, serve sapere questo nostro sforzo, che non è comodo, ma è necessario ed è altamente pedagogico, perché un ragazzo che vuole rispettare l'ambiente deve contribuire in proprio con uno sforzo affinché l'ambiente sia salvaguardato. Basta con la delega, ci devono pensare gli altri. Una cosa che invece va fatta e va comunicata è il percorso che questo rifiuto segue, dove vanno a finire questi rifiuti, che cosa se ne fanno di questi rifiuti, in che cosa vengono trasformati, qual è il vantaggio per la cittadinanza, perché se uno sa a che cosa serve il proprio sforzo, lo fa con meno peso e con più partecipazione. Sicuramente una cosa che va fatta è allargare questa iniziativa anche agli altri castelli, per intenderci, perché è una cosa che dà dei risultati, soprattutto in termini di partecipazione rispetto dell'ambiente. Allora intanto è una lista civica, intanto abbiamo un progetto che ha cinque obiettivi che sono la terra, l'aria, l'acqua e il fuoco, per cui basta leggere il programma per rendersi conto che al centro di tutto non mettiamo le cose ma mettiamo le persone, mettiamo un metodo, ma soprattutto la cosa a cui teniamo è il bene comune. Vediamo l'acqua, un esempio per tutti. Allora il Comune di Roma, anzi la provincia di Roma è un socio di minoranza della CEA, quest'anno hanno avuto come utili, non parlo di ricavo, utili 58 milioni di euro, scusate, la provincia di Roma in maniera molto corretta e consapevole ha detto che la metà voleva investirli per il miglioramento dei tubi, della struttura e gli altri soci che sono la società Suez e il signor Caltagirone hanno detto assolutamente no, gli utili non si toccano. Perché l'acqua data ai privati dovrebbe migliorare? Non migliora, non solo, l'acqua data ai privati vuol dire che non hanno alcun interesse a far risparmiare l'acqua, perché più acqua si vende e più guadagnano. A questo punto, ripeto, la cosa pubblica deve essere al centro di tutto il percorso della nostra attività.